Amici sportivi buonasera, tra poco andremo in onda con Calcio e dintorni, in studio numerosi ospiti in rappresentanza di due formazioni. Per quanto riguarda la prima categoria Girone C avremo ospiti dello Sportland Villanova, per la seconda categoria invece il Fossacesia 90. Avrete modo come sempre di intervenire chiamandoci al numero 0872 44744 per fare delle precisazioni sulla giornata calcistica oppure per rivolgere delle domande ai nostri ospiti. Come sempre parleremo di prima e di seconda categoria e come facciamo da qualche settimana anche del Girone D di prima categoria e del Girone E di seconda categoria. Tutto questo tra poco a Calcio e dintorni. Bene amici sportivi, eccoci ritrovati con Calcio e dintorni, la trasmissione dedicata ai campionati di prima e di seconda categoria di calcio, nonché ai cosiddetti sport minori. Questa sera parleremo in particolare dei Girone C di prima categoria e del campionato di seconda categoria con i nostri ospiti del Fossacesia 90. Per quanto riguarda la prima categoria Girone C subito con noi i nostri ospiti dello Sportland Villanova che vado subito a presentarvi. Si tratta del dirigente Francesco Federico, eccolo inquadrato, poi abbiamo il responsabile del settore giovanile Fabio Polidoro, di seguito il direttore sportivo, nonché calciatore di questa squadra, Domenico Caporale. E infine abbiamo William Di Crescenzo, attaccante della formazione pescaresi. Con loro parleremo, come dicevamo, di prima categoria del Girone C, naturalmente quello che lo riguarda, ma anche con qualche commento sul Girone D di prima categoria. Si parte subito con i risultati e le classifiche del campionato di prima categoria Girone D. Andiamo a vedere cosa è successo ieri in questo Girone. Vediamo la classifica con il Fara San Martino al comando con 39 punti, Spallanciano 35, Perano 33, Paglieta 29, Vacri 26, Calcio Vasto 25, Casalbordino 21, Orsogna 20, Scerni 19, Valsinello Gissi 18, Torino Di Sangro 17, Rocca Spinalveti e Virtus Cupello 14, Crecchio 13, Fossa Cesia e Tornareccio 12 punti. Passiamo alla classifica dei marcatori con 10 gol al comando Marco Gian Giordano del Fara San Martino, con 9 gol Marchetti del Paglieta, 7 reti per Fischio della Spallanciano, Donofrio del Perano e Di Pasquale dello Scerni, 6 reti per Ferrante del Vacri e Di Pietro del Calcio Vasto con 5 gol, Zappacosta del Vacri, Gualtieri del Torino di Sangro, Fiorillo del Calcio Vasto, Andrea D'Ortona del Paglieta, Di Florio della Spallanciano, Di Credico del Vacri, De Vitis del Fara San Martino, Cola Iacovo dello Scerni, Fernando Cericola del Paglieta, Bonacci del Torino di Sangro e Aquilano della Valsinello di Gissi. Questo per quanto riguarda le posizioni di vertice in questa speciale graduatoria dei marcatori. Detto questo andiamo ad analizzare rapidamente, visto che stasera Luigi Davide per motivi di salute non è qui con noi, ma comunque nulla di grave, lo salutiamo Luigi e contiamo di averlo con noi lunedì prossimo. Dicevamo, non abbiamo rappresentanti di questo girone, quindi commentiamo brevemente questo campionato di prima categoria, girone B, con la sorpresa clamorosa, la sconfitta interna della Spallanciano ad opera del sempre più sorprendente Paglieta. La Spallanciano a questo punto viene distanziata in classifica dal Fara San Martino, Fara San Martino che adesso ha quota 39 punti a 4 lunghezze dalla formazione frentana. Fara San Martino che in settimana ha avuto la vittoria a tavolino per la gara, ricorderete, sospesa domenica scorsa con il calcio vasto. Per quanto riguarda le altre formazioni, dietro la capolista, detto della sconfitta inopinata della Spallanciano, il Perano che vince invece con il fanalino di coda Fossa Cesia, i cugini dei nostri ospiti del Fossa Cesia 90. Fossa Cesia sempre più inguaiato insieme al Tornareccio in coda alla classifica. Tornareccio sconfitto con un gol di scarto a Gissi, Valsinello Gissi, che avremo come ospite nelle prossime settimane qui a Calcio e dintorni. Detto questo possiamo adesso andare a vedere cosa è successo nel girone C di prima categoria, quello in pratica dove sono presenti i nostri ospiti dello Sportland di Villanova. Questi i risultati di ieri, Adriano Flacco Pescara Popoli 2 a 0, Arabona Castilenti 4 a 2, Arielli River 65 1 a 0, Faresina Montupoli 1 a 2, Michetti Butianico 4 a 1, Tirino Bussi Tibufuoco 1 a 1, Vestina Penne, Vispianella 93 a 2, Sportland Villanova, Adriano Flacco di Giuliano Teatino 1 a 1. Vediamo anche la classifica di questo raggruppamento con la Flacco Pescara, prossima ospite lunedì a Calcio e dintorni, al comando che sorpassa i cugini del Giuliano Teatino, 40 punti per i pescaresi, 39 per i teatini. Il Montupoli e il Michetti sono a 28, Popoli 27, Tibufuoco 24, Bucchianico 23, Faresina e River insieme al Terino Bussi 21, Castilenti 20, Vestina Penne 18, Arabona 17, Villanova 13, Arielli 7 e chiude il Vis Pianella 90 con 4 punti. Possiamo andare a vedere anche chi è che comanda la classifica dei marcatori in questo girone. Si tratta di Rapposelli della Tibufuoco con 11 reti, 10 gol per Dipentima dell'Adriano Flacco di Pescara, poi 9 gol per Dalò, Anchelli dell'Adriano Flacco di Pescara insieme a Marco Iacuone del Michetti, 7 reti per Presutti del Popoli, Morelli del Castilenti, Mamarella del River, Donatucci della Faresina e Aielli del Vestina, 6 gol per Zuccaro del Castilenti e Gaspari dell'Adriano Flacco e Giuliano Teatino. E infine con 5 gol, Rosica e Rinaldi del Montupoli, Neia della Faresina, Marino del River, Mangiacavallo del Popoli, Di Paolo del River, del Gran Mastro del Vis Pianella 90, Ciampoli dell'Adriano Flacco Pescara e Baglieri dell'Adriano Flacco di Giuliano Teatino. Questo per quanto riguarda le posizioni di testa in questo campionato. E adesso andiamo subito a parlare con i nostri ospiti dello Sportland Villanova di questo girone C. In particolare chiediamo a Caporale, che è il direttore sportivo, di parlarci della gara di ieri, un pareggio prestigioso conseguito a spese dell'Adriano Flacco di Giuliano Teatino, tra le candidate numero uno alla vittoria finale. Un pareggio che ha permesso alla Flacco Pescara di scavalcare nuovamente i rivali. Pareggio giusto alla luce di quanto messo in mostra dalla sua squadra ieri? Il pareggio è stato giusto. È stata una partita avvincente, anche se il campo era al limite della praticabilità. C'è stato un match memorabile, perché è stato uno scontro al vertice con la prima in classifica. Sappiamo i valori della Giano Flacco e della Giano Teatino e a che cosa punta quest'anno. Il presidente Marini ha investito su questa squadra, punta a fare molto bene. Ci sta riuscendo, anche se ieri sul campo di Villanova ha dovuto combattere contro la nostra formazione, che era caricata al punto giusto per affrontare questo match. Il pareggio alla fine sostanzialmente premia tutte e due le squadre, anche se qualcosina da recriminare ce l'abbiamo noi. Però sono cose che nel calcio capitano. Che giudizio può darci di questa Flacco di Giuliano Teatino? È la più forte formazione di questo campionato oppure, come la classifica dice, è da temere di più l'altra Flacco? Finito il girone d'andata posso dare un giudizio. L'Adriano Flacco di Giuliano Teatino è forte, però l'Adriano Flacco di Giuliano Teatino mi sembra una squadra ancora più quadrata. Anche il povere, secondo me, merita, anche se adesso è quinta, una citazione. Cosa ne pensa l'attaccante di Crescenzo delle due Flacco? Le due Flacco sono tutte e due belle squadre. Penso comunque che la Flacco Pescara abbia forse un potenziale più, nonostante che la Flacco Giuliano Teatino abbia Baglieri, Gaspari, che sono insomma dei giocatori. Però come organico, come in tutti i reparti, penso che la Flacco Pescara sia più attrezzata. Tornando allo Sportland Villanova, volevo chiedere al signor Federico dove può arrivare questa formazione? Lo Sportland è una società giovanissima, è nata quest'anno, è il primo anno di attività. Comunque ci siamo strutturati tecnicamente ed organizzativamente in modo tale da far partecipare le nostre squadre in ogni categoria, prima categoria, ignore, salievi, giovanissime, così andando in giù. Le aspettative. Il nostro Presidente si è circondato di un pool di collaboratori volenterosi e pieni di buona volontà. Sulla scorta di queste premesse non possiamo far altro che bene. E quindi pensiamo che passato questo primo anno di assestamento, dove noi ci stiamo guardando un po' attorno per vedere un po' le necessità, le pecche, le cose da correggere, crediamo e siamo proprio fermamente convinti che il prossimo anno... ...impegnati nelle varie categorie. Quindi per noi è un segnale positivo. Significa che stiamo costruendo qualcosa di veramente buono e speriamo il prossimo anno di poter far vedere queste cose. Diceva il primo anno di attività, ma se non sbaglio lo Sportland Villanova... ...se è inestato su una città già esistente, da diversi anni, adesso non ricordo quanti, ma circa... ...una ventina d'anni. Ci siamo inestati con una ventina nuova per fare sempre meglio. Come prima categoria speriamo di salvarci e toglierci il prima possibile della situazione dove stiamo, che non è tanto felice. Per le altre attività che parlava il signor Francesco, spuntiamo sul settore giovanile alla grande. Ecco, facciamoci spiegare meglio da Fabio Polidoro come è strutturato il vostro settore giovanile in quanto responsabile del suddetto settore. Sì, innanzitutto come primo anno stiamo andando oltre le più grosse aspettative, perché il numero dei ragazzi che siamo riusciti a coinvolgere supera le 100 unità. Dalla riunione ai primi calci abbiamo dei gruppi competitivi, soprattutto dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista qualitativo, come diceva Francesco prima, siamo togliendo tanto di quelle soddisfazioni che non pensavamo neanche, non immaginavamo neanche all'inizio dell'anno. La cosa più bella è vedere tanti ragazzi che vengono al campo e si divertono. Si divertono a fare allenamento e arrivano alla partita che è il clou, è il momento clou di una settimana di lavoro, ma lo vivono con gioia, senza che ci siano pressioni particolari. La cosa più bella. Per quanto riguarda la Juniores, stiamo facendo anche un ottimo campionato, sempre un campionato provinciale, in cui siamo stati nelle prime posizioni e diversi ragazzi hanno esordito e continuano a giocare in prima squadra. Infatti parlava prima di Giardinelli, un ragazzo di 17 anni che sta facendo molto bene in prima categoria e altri ragazzi hanno già esordito. Mi auguro ci siano anche altri che possano calcare questi parcoscenici, anche i migliori. Quanto riguarda gli allievi e gli altri gruppi, facciamo sempre campionati provinciali, ma come primo anno non potevamo spiegare di più. Bene, direi di fare un'altra breve pausa, poi continueremo a parlare del Girone C di prima categoria con i nostri ospiti dello Sportland Villanova, ma anche degli altri campionati. Se volete chiamarci, quello è il numero in sovrimpressione da formulare, 0872 44 744. A tra poco. Bene, siamo rientrati in studio, stavamo un po' ridendo per alcuni messaggi che ci stanno arrivando in redazione. Allora, un tifoso del Ripatiatina per Caporale dice che porta bene i suoi 40 anni. Visto che non è una donna, possiamo dire l'età è il peggio. Non ha 40 anni. Ne ha qualcuna di meno. Ha esagerato un po' questo tifoso. Poi per Di Crescenzo, da un tifoso del Villanova, i complimenti a Di Crescenzo, detto anche Van Basten, con la promessa però di impegnarsi di più. Vogliamo promettere un impegno maggiore? Sicuramente, spero di fare altri gol e di portare sempre bene per la società Sportland Villanova e di arrivare il prima possibile alla salvezza perché è il traguardo a cui noi aspiriamo per poter ambire il prossimo anno a qualche traguardo più prestigioso. Federico, si parlava di salvezza, ma quali sono le antagoniste, le squadre dalle quali dovrete guardarvi meglio per questa lotta. In questo momento voi siete in zona play-out. 5 punti, anzi più di 5 punti, a contaventi c'è la zona salvezza per evitare questi play-out. Ci sono diverse squadre indistriate? Già da domenica prossima c'è la partita con River e già è una partita che noi dobbiamo vincere assolutamente per ridare uno slancio alla classifica stessa. Stavamo parlando proprio in macchina mentre venivamo e dicevamo che bisognerebbe vincere almeno 3-4 partite una dopo l'altra per ritornare in una posizione di mezza classifica e per riprendere quelle squadre che stanno sui 20 punti in modo da uscire fuori dall'ambito del play-out e quindi fare un viaggio più tranquillo fino alla fine del campionato. Speriamo, è sempre una speranza che i ragazzi si impegnino comunque domenica l'hanno dimostrato proprio in maniera molto evidente. Credono in questa società e sono spinti a fare sempre. Polidoro, secondo lei ci sono stati dei risultati sorprendenti in questo turno di campionato? Beh, la sconfitta del River-Arielli sicuramente. Noi diciamo la partita prossima con il River per molti di noi è quasi un derby perché io e Francesco siamo ex rosa-nero ci siamo lasciati anche in buoni rapporti non che siamo andati via in cattivi rapporti o che sia stato astio tra noi. Gli auguro le migliori fortune ma da lunedì prossimo in poi lunedì di poter gioire noi e poi dalla settimana seguente che possano comunque tirarsi su perché sicuramente non è la classifica che meritano è una squadra formata da tanti ragazzi come d'altronde o anche la nostra e che ha fatto sempre bene sicuramente si tirerà su però, ripeto speriamo da partita dopo la nostra. Caporale qual è stata secondo lei la sorpresa la rivelazione di questa prima parte della stagione nel girone C? Secondo me è il Montupoli che insieme ai Michetti stanno risalendo un po' fino alle zone alte della classifica Popoli? Popoli, l'ho detto prima Popoli a me piace come squadra è una che arriverà in alto alla fine Parliamo invece con Di Crescenzo di un'altra pescarese il Tivufuoco che la partita inizialmente ha sprombattuto poi ha avuto un cedimento a metà del girone di andate adesso sembrerebbe incanalata verso una costanza di rendere Sì, noi l'abbiamo incontrato prima della sosta mi ha fatto una buona impressione soprattutto nel reparto avanzato con Piero Rapposelli che tra l'altro colgo l'occasione per salutarlo perché abbiamo giocato insieme a Ripa è un ottimo giocatore in queste categorie i gol suoi li fa sempre e quindi comunque la Tibufuoco non so cosa sia successo nell'interno perché è veramente una bella squadra e penso che insomma 24 punti sta lì dalle terze dalla terza e penso che possa benissimo tanto le prime due oramai se ne sono andate benissimo lottare per la terza piazza perché è una squadra insomma attrezzata è fatta è messa bene Federico di quest'altra Pescarese Vispianella 90 in ultima posizione sembrerebbe un po' attardata dopo visto anche il successo dell'Arielli di ieri infatti l'Arielli vingendo ieri si è distanziato ulteriormente dalla Vispianella è una squadra che noi abbiamo incontrato certamente non è attrezzata come la nostra indubbiamente insomma non siamo più attrezzati abbiamo dei giocatori che possono sicuramente fare risultati risultato io auguro a loro sempre di poter risalire naturalmente è sempre un augurio della sportiva perché stiamo qui sempre nello stesso ambiente speriamo non con noi come diceva ma già ci abbiamo giocato beh adesso cambiamo argomento lo stesso parleremo un po' con i nostri ospiti di questo girone campionato di prima categoria girone di i risultati della giornata di ieri andiamo a vederli in grafica pro calcio calcio favale 25 toranese 23 garrufo 22 piano della lente 20 villamoschia 19 mutignano 18 bisenti e casolidiatri 16 cerchiara 14 atletico pineto emiano 12 canzano chiude con 9 punti e adesso vediamo anche la classifica dei marcatori al comando con 17 gol di filippo dello scerne di pineto che comunque aveva segnato 7 di questi 17 gol quando vestiva la maglia della toranese 12 gol per valentini del miano 9 gol per tulli del pro calcio favale e alessandroni del colonia paese 8 gol per d'ambrosio del villamosca 7 per campitelli del piano della lente e vignoni del colonia paese allora due battute su questo girone ne approfittiamo visto che da qualche settimana che trattiamo anche questo girone oltre che la seconda categoria girone per parlare un po' con i nostri ospiti colonia paese torricella sicura e scerne di pineto sono le tre squadre che sembrerebbero destinate a lottare per la vittoria finale un vostro parere in merito chi vuole intervenire di crescenza posso parlare perché forse giocando a roseto alcuni anni fa ho vissuto l'ambiente terramano forse nel modo migliore perché a roseto le partite sono molto sentite anche se la palla canestro forse prende un po' di più però noi abbiamo fatto un campionato mi ricordo che la perdemmo per un punto prima non siamo andati in interregionale per un punto e mi ricordo che fu alla fine quasi un dramma ci seguivano ma veramente con i pullman fu un'annata e quindi vedo qua delle squadre tipo il Martin Sicuro che a quei tempi insomma mi ricordo che era tra le prime in promozione e adesso la vedo in prima categoria non so 28 punti forse avranno qualche problema perché sicuramente la società è una società ambiziosa storica poi per le altre squadre c'è lo Scerne pure che insomma è una squadra abbastanza forte che ha sempre militato in promozione sicuramente farà bene perché poi vedo che è un campionato insomma abbastanza equilibrato rispetto al nostro che ci sono Flacco e Giuliano Giuliano Teatino e Flacco Pescara che sono oramai se ne sono andate dalle altre qua lo stesso Martin Sicuro penso che potrà benissimo con qualche risultato positivo rientrare nella lotta sì sì sicuramente bene adesso direi di far intervenire i nostri ospiti per i saluti finali noi diamo l'ultima parola ai nostri ospiti siete liberi di salutare di commentare un po' e di dire quello che volete perché adesso poi faremo il cambio con gli ospiti del Fossa Cesia 90 durante la pausa pubblicitaria iniziamo dal dirigente Francesco Federico a lei la parola io devo ringraziare il pool che il presidente ha composto per la conduzione di questa società perché è d'obbligo perché senza di loro certamente non si potrebbe fare assolutamente niente quindi rinomino così a livello di ringraziamento proprio Svaldo Alfio poi ci sono i vari segnalini i custodi accompagnatori tanti e tanti e tanti che devo ringraziare a nome anche del presidente perché veramente offrono questa loro opera di volontariato proprio di volontariato e con molto entusiasmo principalmente è la cosa più importante ed è per questo che possiamo andare avanti Bene grazie a Francesco Federico Fabio Polidoro responsabile del settore giovanile Allora quando arrivano dei ringraziamenti la prima persona da ringraziare ce l'ho qua a fianco che è Francesco è una persona insostituibile impagabile per tutto quello che fa insieme a lui come ha nominato Alfio è lo stesso Romolo Barbacane che sono due persone che pare di Francesco mi danno una mano grande col settore giovanile un ringraziamento particolare va ad Osvaldo Osvaldo D'Addazio che è il trade union tra la società vecchia e quella nuova mi ha aiutato e ci ha aiutato tanto a capire i ragazzi con le problematiche che c'erano e poi vabbè tutte le altre persone il presidente Felice De Angelis il vice presidente Toppa Cristiana sono persone insostituibili per tutto quello che ci stanno dando e poi i ragazzi un saluto particolare a tutti i ragazzi sia quelli che allenano direttamente che quelli che comunque non allenano direttamente ma che fanno parte della Polisportiva Sport della Villanova bene ecco stavo leggendo alcuni messaggi un tifoso del Giuliano Tiatino così mi approfittavo visto che c'erano ancora i nostri ospiti allora un tifoso del Giuliano Tiatino dice che la squadra non è fatta solo da Baglieri e Gaspari ma anche da altri giocatori che stanno facendo grandi cose e nessuno li nomina mai ad esempio Gian Pietro che ogni domenica segna oppure Angelucci e così tutti gli altri anche loro meritano un ringraziamento e delle attenzioni cosa sicuramente Gian Pietro poi lo conosco pure quindi mi scuso con lui se non l'ho citato però nel momento dell'intervista si sa uno alla fine nomina i più conosciuti anche se lui insomma ha militato in campionati di promozione prima categoria quindi è molto bravo poi domenica tra l'altro ci ha fatto gol e ci ha fatto quindi forse non l'ho nominata apposta poi ecco un'altra telefonata che offre qualche spunto di dibattito un genitore di un ragazzo che gioca nel Sant'Anna dice se conviene ancora portare i ragazzi a giocare ed educarli allo sport quando poi la violenza regna in campo e si negano anche le docce dopo aver fatto tanti chilometri e aver giocato un incontro e volevo tornare naturalmente al responsabile del settore giovanile Fabio Polidoro visto che si parla di ragazzi in questo caso sì secondo me vale la pena vale la pena perché dobbiamo credere in quello che facciamo e dobbiamo educare i ragazzi alla sana competizione non deve essere esasperato non deve essere mirato al risultato ma deve essere devo imparare che nello sport c'è anche la sconfitta e imparare a saper perdere anche perché così si apprezzano maggiormente le vittorie se succedono cose del genere sono fatti incresciosi però magari il fatto di segnalarli qui probabilmente chi si è reso responsabile di questo se ne pentirà bene ecco io chiederei a Caporale eventualmente se può rimanere ancora un po' perché siccome stanno arrivando altre telefonate nel caso si può rispondere anche dopo insieme ai tre del Forza Cesa 90 rimane anche Caporale quindi i saluti finali soltanto all'attaccante William Di Crescenzo saluto tutti gli sportivi tutto il campionato di campionati dilettantissimi che alla fine ogni domenica insomma di divertirci nelle partite senza tante parole in mezzo al campo che alla fine non servono divertiamoci e continuiamo in questa avventura che è la cosa più bella che c'è alla fine tutti quanti lavoriamo quindi la domenica ci dobbiamo divertire ci dobbiamo e andiamoci a divertire tutti tranquillamente sì prima di passare alla pubblicità Fabio Polidoro aveva dimenticavamo di salutare il mister Ambrosini mister Claudio Ambrosini e pure il figlio che ci dà una mano col settore giornale Francesco è una citazione che dovevamo fare ad obbligo beh certamente bene adesso noi ci fermiamo per una pausa poi presenteremo anche gli ospiti del Fossacesia 90 che rimarranno insieme a Domenico Caporale del Villanova parleremo tra poco di seconda categoria calcio d'intorno bene siamo tornati in diretta con calcio e dintorni ed è il momento di presentarvi gli altri ospiti di questa puntata di calcio e dintorni oltre al direttore sportivo dello Sportland Villanova che è rimasto qui nei nostri studi andiamo a presentarvi altri tre ospiti che come dicevamo rappresentano il Fossacesia 90 formazione che milita nel campionato di seconda categoria girone F si tratta del presidente Giovanni Sciampa tra l'altro anche medico sociale della formazione insieme a lui due attaccanti due degli attaccanti di questa squadra il bomber Antonio Castracana eccolo inquadrato e l'altro attaccante Andrea De Simone con loro parleremo di seconda categoria analizzeremo anche il girone D di seconda il girone D che andiamo subito ad analizzare con la grafica che ci dirà quali sono stati i risultati di ieri vediamoli subito Casa Canditella Poggio Fiorito 5 a 0 Castelfrentano Caporosso 3 a 0 Maiello 84 Nino Cerullo 1 a 1 Real Francavilla Valdiforo 0 a 0 Calcio San Paolo Palombaro 1 a 1 Torrevecchia Brecciarola 3 a 5 Treglio Canosa Sanita 0 a 2 Villa San Vincenzo Ari 0 a 0 Passiamo alla classifica Casa Canditella al comando con 42 punti Brecciarola Castelfrentano 32 Palombaro 29 Canosa Sanita 28 Villa San Vincenzo 27 Maiello 84 23 Calcio San Paolo 22 Torrevecchia 20 Ari Nino Cerullo 18 Caporosso 16 Valdiforo Miglianico 13 Poggio Fiorito 3 Treglio 3 Real Franca 7 Punta La classifica dei marcatori possiamo vederla e non solo il Casa Canditella è al comando della classifica squadra ma anche per i marcatori Giordano del Casa Canditella infatti da tempo al comando 20 gol raggiunti per lui alle sue spalle Cavallo del Brecciarola con 17 gol 9 reti Berdigiacomo del Castelfrentano De Felice del Calcio San Paolo Cameli del Canosa Sanita con 8 gol Carmenini del Brecciarola con 7 reti Mincone del Torrevecchia Di Martino Dellari De Palma del Canosa Sanita e dal Pozzo del Maiello 84 e infine con 6 gol Scaglione del Castelfrentano Di Prinzio del Palombaro Colasante del Calcio San Paolo Claudicante del Palombaro Cellucci del Maiello 84 queste sono le posizioni di vertice prima di andare ad analizzare questo girone con i nostri ospiti del Fossa Cesia 90 dalla redazione mi portavano altri messaggi un giocatore del Brecciarola Marcucci augura un'ottima permanenza al Villanova per un buon derby il prossimo anno e tra l'altro il Brecciarola manca a farla apposta dovrebbe essere quasi al 99% ospite lunedì prossimo a calcio ed intorni un giocatore del Villanova poi dice che da quando è entrato Di Crescenzo tutti loro hanno una grande grinta grazie a Di Crescenzo quindi da parte di questo compagno di squadra che non si è voluto qualificare bene allora passiamo adesso a commentare Presidente Sciampo a questo girone che non vi riguarda ma che comunque lei penso conosca abbastanza campionato che sembrerebbe ormai destinato al successo finale del Casa Canditella 10 punti non sono tantissimi con la vittoria che vale 3 punti ma comunque sono tanti per le ambizioni delle altre e per il passo spedito della formazione del Presidente D'Angelo direi di sì con sommo dispiacere per quello che mi riguarda perché sono molto amico del Dottor Di Santo non so se Presidente o comunque uno dei dirigenti del Palombaro che ho visto giusto sabato e mi diceva molto convinto della rimonta si diceva convinto della rimonta io ho i miei dubbi penso che potrà al massimo aspirare al secondo posto vedo con dispiacere comunque con un po' di meraviglia che il Poggio Fiorito e il Treglio non tanto il Poggio Fiorito quanto il Treglio che l'anno scorso stava nel nostro girone ed era una ottima squadra si trova in fondo alla classifica non capisco che tipo di problemi possano avere comunque la realtà è questa prendiamo atto bene adesso andiamo a vedere cosa è successo nel girone di seconda categoria questa settimana fortunatamente possiamo darvi qualche ragguaglio in più visto che il nostro appello delle settimane scorse per darci un po' da parte vostra informazioni su questi nuovi gironi che trattiamo è stata raccolta da qualcuno seconda categoria girone vediamo subito i risultati Moscufo Acli Passo Cordone 1 a 4 Elicese Ariete 72 7 a 1 2000 Calcio Montesilvano Arsita 3 a 2 Amatori Passo Cordone Atletico Sportore 3 a 2 Castiglione Daniele Cericola 0 a 1 Atletico Roseto San Pellegrino 2 a 1 Marina Montesilvano Verlengia 1 a 1 Giacomo Chiola Voltigno 1 a 0 passiamo alla classifica l'Amatori Passo Cordone è al comando con 39 punti Acli Passo Cordone 34 Giacomo Chiola 29 Moscufo 27 Atletico Sportore 26 Atletico Roseto 25 Marina Montesilvano Edelicese 23 Castiglione 22 Daniele Cericola 20 2000 Calcio Montesilvano Everlengia 18 San Pellegrino 15 Arsita 14 Voltigno 11 Ariete 72 4 punti La classifica La classifica dei marcatori al comando Di Matteo dell'Acli Passo Cordone con 14 gol 13 reti per Pagliccia del Giacomo Chiola con 10 gol Ricciutelli del Daniele Cericola e Pantaleone dell'Elicese con 9 gol Consorte del Voltigno Granchelli del San Pellegrino Di Muzio del Castiglione Calcio Leone dell'Elicese Isotti dell'Arsita e Nantesini dell'Atletico Roseto Volevo ricordarvi che per avere tutte le classifiche e marcatori dalla serie C2 alla seconda categoria potete consultare il sito internet www.calcioabruzzo.it del nostro amico Stefano De Cristofaro Prima di commentare questo girone ecco per Caporale c'è una domanda Caporale del Villanova visto che oggi ha lavorato molto con le percentuali può dirci che percentuale ha oggi il Villanova di salvarsi domanda un buon 40% quindi al di sotto del 50% c'è ancora da lavorare sì bene dicevo del campionato di seconda categoria ringraziamo il signor Antonio Cenerino dell'amatori calcio Passo Cordone tra l'altro formazione che guida la classifica per le preziose informazioni che ci ha inviato via fax ieri tra queste un commento alla giornata la giornata dice il signor Antonio non ha riservato grosse sorprese al vertice in quanto sia gli amatori che l'acli Passo Cordone hanno vinto le rispettive partite gli amatori con lo spoltore e l'acli con il Moscufo la sorpresa della giornata è stata senza dubbio la vittoria del Cericola sul difficilissimo campo del Castiglione da notare la vittoria del Chiola che si porta da sola al terzo posto a cinque punti dalla seconda e il roboante successo per 7 a 1 dell'Elice sulla Riete Elice che si riporta centro classifica dopo un brutto inizio di campionato e se vogliamo dopo aver deluso le aspettative degli addetti ai lavori che l'avevano inserita tra le pretendenti al campionato in considerazione anche dell'ottimo piazzamento della scorsa stagione per quanto riguarda la gara del passo cordone dell'amatori con l'atletico spoltore la partita si è disputata presso il campo a Ciavatti di Loreto Brutino in condizioni di scarsa praticabilità che ha condizionato il gioco delle due squadre tecnicamente fra le migliori del girone la partita è stata caratterizzata da un dominio territoriale netto degli amatori a cui ha risposto lo spoltore con azioni di contropiede per quanto riguarda la cronaca della partita si apre subito con i primi minuti dove c'è un netto fallo da rigore sul giovane bomber Colangelo classe 81 in area dello spoltore che l'arbitro a detta del signor Antonio non ha visto al quarto d'ora del primo tempo gli amatori passavano in vantaggio con un'azione manovrate conclusa dal rapidissimo Colangelo al ventesimo lo spoltore pareggiava su un rigore netto con Cirillo e passava in vantaggio al trentesimo con Di Natale su un rapido capovolgimento di fronte e una leggerezza difensiva dei locali al quarantesimo del primo tempo pareggiava l'amatori con una magistrale punizione di capitano Di Virgilio la partita si chiudeva al venticinquesimo del secondo tempo con la doppietta di Colangelo che fissava il punteggio sul 3 a 2 per gli amatori da notare che al trentasettesimo del secondo tempo il capocannoniere dell'amatori Triozzi con un tiro da 30 metri colpiva all'interno dei pali e la palla attraversava tutta l'area di porta senza entrare una nota sulle due squadre il signor Antonio è stato molto molto preciso in questi in questi dettagli l'amatori Passo Cordone ha dimostrato compattezza e carattere soprattutto nel finale quando lo spoltore si è buttato in avanti per cercare il pareggio sul secondo gol dello spoltore la difesa degli amatori ha avuto una grossa indecisione l'elemento che ha più interessato nel Passo Cordone in questa giornata è stato il giovane Alessandro Colangelo classe 81 prelevato dal lauretto ma a dicembre e che ha siglato due delle tre reti dimostrando di essere veramente un lusso per queste categorie lo spoltore è stata forse la squadra migliore vista al comunale sin ad ora sia come gioco che come individualità ed esperienza forse ha evidenziato alcune carenze di tenuta sul piano fisico vista anche la loro abitudine a giocare su un campo ridotto per dimensioni qual è quello di spoltore dalle poche notizie avute dai dirigenti del Moscufo sembra che l'Acli pur vincendo per 4 a 1 abbia dovuto lottare non poco anche se da parte del Moscufo si recrimina la mancanza per squadifica di 4 titolari per quanto riguarda i gol dell'Acli Passo Cordone sono stati realizzati da Santarelli Candeloro Paolo Graziani e Di Sante infine due battute sulla classifica marcatori proprio di questa squadra l'amatori Passo Cordone che ha come suo capo cannoniere Antonello Triozzi con 7 gol poi 6 gol per Lorenzo Mirabile e Dante Abate così come ha fatto il signor Antonio Cenerino invito anche voi altri ad inviarci dei fax per farci conoscere meglio le vostre squadre numero nostro di fax 0872 44698 all'attenzione naturalmente della redazione sportiva potete inviare quando volete i vostri comunicati bene e adesso andiamo a parlarvi del girone che riguarda i nostri ospiti del Fossacesia 90 il girone F di seconda categoria andiamo subito a vedere cose successe in questo raggruppamento vediamo i risultati Audax Palmoli Torre Bruna 0-0 Carpinetto Sinello Bomba 3-0 Fossacesia 90 Real San Salvo 0-0 Mario Turdò Carunchio San Salvo Marina 0-0 Palina Guastameroli 0-0 Pizzo Ferrato Villa Santa Maria 2-3 San Vito 83 Marina Calcio 2-3 San Giovannese Sant'Anna 5-0 vediamo la classifica Mario Turdò al comando con 44 punti Marina Calcio 39 Real San Salvo 38 Villa Santa Maria 37 San Vito 83 San Giovannese 22 Sant'Anna 21 Torre Bruna 19 Fossacesia 90 Carpinetto Sinello 16 Guastameroli Audax Palmoli e Palena 15 Pizzo Ferrato 14 Bomba 12 chiude il San Salvo Marina con 9 punti e andiamo alla classifica dei marcatori al comando con 20 gol Ivan Stella del Villa Santa Maria 16 reti per Chioldin della San Giovannese 15 gol per Germano Turdò del Mario Turdò e Gino Guerra del Real San Salvo 13 reti per Bucco del San Vito 83 11 gol per Valentini del Marina Calcio e Serafini del Mario Turdò 10 gol per Luca Grassi del Marina Calcio 9 gol infine per Tozzi del Real San Salvo Antonio Liberatore del Marina Calcio Lamanda dell'Audax Palmo di Castracane del Fossacesio 90 nostro ospite e Antenucci del Torre Bruna questa è la classifica dei marcatori iniziamo subito con una telefonata per il Presidente Sciampa un tifoso fa i complimenti per l'ottimo campionato del Fossacesio 90 quest'anno il Presidente sta andando un po' meglio degli anni passati dove il Fossacesio 90 vedeva molte delle squadre dal basso in alto quest'anno invece sembrerebbe una via di mezzo un po' su e un po' giù dunque le premesse nostre come lei sa non sono assolutamente cambiate noi dobbiamo salvarci la nostra linea è sempre quella direttantismo puro al 101% direi che quest'anno forse c'è un po' più entusiasmo probabilmente il fatto di avere un allenatore giovane entusiasta come Camillo Bada e soprattutto uno del gruppo porta a fare della società e della squadra un vero gruppo di amici forse più rispetto all'anno scorso l'unica differenza è proprio questa ed è quello che ci fa avere dei risultati qualche volta se vogliamo clamorosi tipo quello di sabato in cui sabato praticamente abbiamo messo si può dire che abbiamo impattato e sicuramente il risultato va stretto più a noi che a loro con uno squadrone di professionisti come il Real San Salvo in un'altra occasione abbiamo fatto impattato e sicuramente meritando di più anche con l'allora prima in classifica che era il Villa Santa Maria tra loro facendo fare una pessima figura al vostro opinionista Davide che ci aveva dato già per spacciati addirittura per il campionato sono assolutamente lieto di smentirlo e penso che dovremmo migliorare ulteriormente la nostra classifica purtroppo ci aspetta un diciamo le prossime fino all'ottava giornata abbiamo tutte le prime in classifica per cui speriamo di ripetere qualche altro risultato come quello di sabato se già riuscissimo a prendere un paio di punticini con le prime in classifica sicuramente l'entusiasmo crescerebbe ulteriormente e sarebbe un buon inizio per per la parte del campionato che ci interessa di più che dall'ottava in poi Castracani il bomber di questa squadra con lui volevo parlare proprio della gara disputata come diceva il presidente sabato scorso un risultato di prestigio sicuramente infatti nessuno si aspettava di solito quando si affrontano queste partite già si si dà per spacciarli perché si fa il testa coda in classifica quindi invece poi in campo non lo so abbiamo tirato fuori i cosiddetti attributi e non abbiamo avuto paura di affrontare questa squadra che è forte una bella squadra io sinceramente l'avevo già favorita già dall'inizio invece poi il Mario Turdoso è stato avanti però comunque sta qua quindi comunque può fare ancora bene De Simone dove può arrivare a questo punto il Forza Cese a 90? Ma io dopo una lunga assenza da questa squadra rientrando nel gruppo vedo che come diceva il presidente stiamo stiamo facendo bene siamo parecchi ragazzi l'affiatamento tra di noi sta arrivando a un buon punto l'abbiamo dimostrato appunto come diceva il nostro capitano Torino Castragane con la partita del Real San Salvo che se ci impegniamo se la volontà di tutti i giocatori c'è possiamo dimostrare che possiamo fare un buon campionato ecco Presidente due battute sulla Forza Cese di prima categoria un campionato molto sotto tono rispetto alle previsioni e purtroppo c'è la concreta possibilità che l'anno prossimo si giochi il derby in seconda faranno naturalmente i debiti scongiuri i vostri cugini Allora io sinceramente mi auguro che non si giochi il derby primo perché assolutamente auguro a loro di salvarsi di togliersi per lo meno dall'ultimo posto di giocarsela nei play out perché sono una lotteria perché tra l'altro sono convinto che non meritano la classifica che hanno e poi temo il derby perché l'ultima volta sono successe cose non molto piacevoli sicuramente da allora i rapporti tra di noi sono cambiati quest'anno ci hanno dato un paio di ragazzi abbastanza buoni sicuramente c'è diciamo uno spirito diverso tra di noi che era quello che auspicavo insieme al presidente che strano saluto quindi immagino che si però il derby è un qualcosa che sfugge sia alla ragione che alla logica alla logica delle cose sinceramente preferisco evitare e comunque auguro loro assolutamente di salvarsi perché comunque restare in prima categoria significherebbe per loro dare un ulteriore sviluppo al settore giovanile che quest'anno so che hanno riordinato e hanno ripotenziato e avrebbero bisogno di dare più entusiasmo ai ragazzi chiaramente con una retrocessione questo viene meno per cui assolutamente mi auguro che si salvino Castracane parliamo un po' della giornata di ieri a parte il vostro successo una giornata caratterizzata stranamente rispetto al solito dalle poche segnature parecchi incontri sono terminati con risultato ad occhiare ed un fatto piuttosto inconsueto per un girone tradizionalmente tra i più prolifici se non il più prolifico tra quelli di prima e seconda che noi trattiamo da sempre un risultato a parte il nostro può essere anche quello del Mario Turdò col San Salvo Marina comunque anche perché noi in campo con gli avversari insomma si diceva se il Martino doveva vincere questa partita magari si allontana troppo noi non riusciamo insomma più a stare di dietro invece poi è successo quasi il contrario anche per loro comunque hanno avuto questo pareggio il resto poi Marina Calcio va forte Villa Santa Maria non molla comunque continua a stare dietro risultati clamorosi non ci sono a parte quello nostro che forse può essere insieme a quello del Mario Turdò uno dei tanti quindi il resto mi sembra tutto normale non c'è stata il problema secondo me è che mancano gli attaccanti noi per fortuna abbiamo lui che nella sua carriera non so fino a che punto lunga o breve ha fatto quasi 160 gol e quindi quest'anno ha fatto 11 partite o 12 partite 9 gol quindi una media altissima noi per fortuna abbiamo lui ma ci sono altre squadre in fondo sono due o tre le squadre che hanno gli attaccanti sono quelle che stanno su il resto il resto fa meno insomma tra l'altro noi siamo una delle squadre meno prolifiche per cui meno male che ci pensa Tonino anche se io penso che quest'anno la nostra squadra come dicevo già da prima la vedo molto cambiata quindi il campionato adesso ha iniziato la sua prima partita di ritorno è ancora lungo quindi Forza Cesia potrà dimostrare di essere una squadra che non merita di stare nei fondi bassi ma meno a metà classifica e fare un buon campionato Presidente Forza Cesia 90 ha dei validi ricambi per il futuro ha un futuro soprattutto allora diciamo che quest'anno abbiamo fatto qualche piccolo sacrificio per assicurarci qualche giovane soprattutto abbiamo presi due o tre è rientrato Andrea De Simone per fortuna perché lui l'ultimo anno che ha giocato era senz'altro uno su cui avrei scommesso a occhi chiusi diciamo sono giocatori diversi come attaccanti sono diversi rispetto a Tonino ma sicuramente mi aspettavo una carriera non dico come Tonino ma abbastanza vicina perché bravo perché ci sta soprattutto con la testa poi purtroppo aveva dei suoi problemi quindi diciamo che ci ha abbandonato però ecco tra lui che è rientrato qualche giocatore giovane abbastanza bravo che abbiamo preso i vecchi che non muoiono mai noi abbiamo Tonino abbiamo Cotellessa abbiamo Piccirilli abbiamo riavuto Donatello Sisti che l'anno scorso giocava a Castelfrentano e che ci ha portato un buon contributo a centrocampo quindi insomma qualcosina almeno per qualche anno andiamo avanti e poi chi vi bravedrà insomma diciamo che forse avremmo bisogno di qualcuno in più come dirigente più che qualcuno in più come calciatore perché i calciatori si trovano forse tranne gli attaccanti merce rara merce rara anzi direi rarissime Simone che è un attaccante comunque come si sta comportando? No lui è bravo ha citato Castracane ma si si parlare di Tonino è scontato secondo me qualche anno fa c'era qualcuno che veniva chiamato il poeta del gol ma se quello era il poeta del gol Tonino è cos'è lo squalo del gol non lo so e comunque no Andrea è bravo ha bisogno però di ritrovare diciamo il passo continuo di allenarsi con continuità ha bisogno soprattutto di trovare un po' più diciamo di spazio in campo ecco che noi siamo abituati a giocare con lui come unica punta per cui o perlomeno l'unico attaccante fisso per cui diventa difficile poi mettere mettere in campo un'altra punta ed evitare nello stesso senso di sbilanciare un po' la squadra però diciamo che piano piano le sue partite le farà sono assolutamente soddisfatto del suo campionato De Simone vogliamo parlare un po' di queste formazioni di alta classifica con Real San Salvo che si diceva inizialmente era accreditata da tutte come la favorita numero uno di questo campionato poi cammin facendo le cose si sono un po' invertite il Mario Tourdò e il Marina Calcio che da seconda fila sono passate in pole position citando termini da Formula 1 infatti come diceva Real San Salvo nella prima partita del campionato ho visto una squadra molto ben disposta in campo considerando che era la prima partita ecco però poi durante il campionato si sono viste queste altre due squadre Mario Tourdò e Marina Calcio che io le ho viste giocare e mi sono sembrate due belle squadre e penso che la Marina Calcio potrà meritare di vincere anche il campionato anche se in seconda in classifica il Mario Tourdò è una bella squadra però penso che la Marina Calcio potrà dare fastidio ecco due battute che stracane sul San Vito che tra le formazioni di questo girone credo sia quella chilometricamente più vicina a voi no noi l'abbiamo affrontata la quarta quinta giornata e sinceramente è una buona squadra ha un buon centrocampo poi c'ha una punta anche se un po' vecchietta un po' come me il Bucco però comunque i suoi gol li fa sempre quindi non è solo che ha perso dei punti importanti adesso si trova quinta quindi credo che mi dispiace per loro c'ho tantissimi amici anche là ma credo che sia tagliata fuori dal discorso promozione ecco l'unica squadra che si può avvicinare un pochettino a questo discorso è ancora il Villa Santa Maria che con 37 punti sta insomma sta ancora lì quindi il camionato è appena iniziato il girone di ritorno quindi può ancora fare tantissimi punti il San Vito credo me lo auguro anche per loro ma credo che sarà difficile ormai Presidente Sciampa un argomento che quest'anno fortunatamente per voi sembra non interessare la zona retrocessione almeno per il momento facciamo i debiti scongiuri allora rispondo subito dicendo che a noi l'argomento retrocessione fino alla trentesima giornata interessa sempre a meno che alla trentesima giornata non abbiamo molti punti sopra la quintultima ma insomma cosa di cui ho molti dubbi per un semplice motivo credo che rispetto all'anno scorso i valori nella seconda parte diciamo nella seconda metà della classifica siano molto equilibrati credo che da Sant'Anna in giù bisognerà lottare un po' tutti fino all'ultima giornata noi abbiamo se riusciamo a resistere alle prime otto giornate di ritorno diciamo credo che abbiamo buone chance perché poi le abbiamo tutte praticamente gli sconti diretti abbiamo la maggior parte in casa e credo che non non prendetemi per un presuntuoso ma credo che non siamo sicuramente una delle ultime cinque come valore della squadra e sicuramente l'abbiamo anche dimostrato in campo perché se prendete le prime quattro in classifica abbiamo perso con Mario Turdò che ha fatto due tiri in porta col San Salvo abbiamo pareggiato e sicuramente meritavamo più di loro col Villa Santa Maria quando eravamo sicuramente in una situazione diciamo atletica e tecnica peggiore abbiamo fatto 0 a 0 e gli abbiamo concesso solo 4-5 punizioni in tutta la partita direi che insomma abbiamo credo dimostrato di valere qualcosa in più diciamo della zona retrocessione però sconosco i miei polli come si dice facciamo delle ottime partite poi casomai andiamo a fare delle partite assolutamente assurde tipo quella di Bomba tipo quella di Carpineto per cui conoscendo queste cose ci vado con i piedi di piombo bene noi siamo arrivati al termine della trasmissione e del momento dei saluti finali del secondo gruppo dei nostri ospiti iniziamo proprio dall'ultimo che è intervenuto il presidente del forza giovanissima io saluto tutti gli sportivi volevo saluto i miei paesani del trigno cerenza che fanno il girone B di promozione ai quali auguro con tutto il cuore di salvarsi perché secondo me non sono una delle ultime tre squadre della prima categoria della promozione girone B volevo ricordare che noi nel 2000 abbiamo festeggiato i dieci anni di attività del forza cese a 90 con molte iniziative tra cui una grande festa che abbiamo fatto quest'estate una mostra fotografica che è fatta anche quest'estate realizzata dal sottoscritto abbiamo a dicembre organizzato un residual con Vincenzo Olivieri e tra le varie iniziative abbiamo scusate sono intervenute delle personalità sia anche sindaco assessore provinciale anche anche l'assessore provinciale allo sport abbiamo diciamo appreso delle iniziative tra cui un ricordino che abbiamo dato ai nostri ostidi che ho pensato di portare anche a voi di Telemax ed è un piatto con che è questo con lo stemma sociale dove dice 1990-2000 dieci anni di sport in amicizia che è il nostro diciamo il motto che è campeggiato sulle nostre divise per il 2000 lo diamo a voi come segno di ringraziamento per la promozione che fate allo sport direttantistico soprattutto alla prima e alla seconda categoria di cui purtroppo vi occupate solo voi non si occupa nessun altro forse in Italia questa è un'occasione per ringraziarvi grazie mille al presidente Sciampa dicevo forse siamo in Italia l'unica non mi sembra che ci siano altre ad occuparsi di questo campionato di questi campionati e passiamo ad Antonio Castracane attaccante del Forza Cesio 90 forse il primo saluto lo vorrei fare a mia moglie che sono 20 anni che mi sopporta tutti i sabbati magari la domenica perché purtroppo poi con i bambini si sa come va a finire la settimana si lavora e sabbra domenica poi si va a giocare quindi insomma forse il primo saluto lo devo proprio a lei poi tutti gli amici della società dei compagni di squadra in particolare un saluto a Lucio Iasci il nostro portiere che ci teneva che lo citassi così col nome quindi niente grazie alla società che ci permette di giocare il sabbato domenica perché sappiamo se ha critici che fanno ora non vi vorrei tanto allungare comunque vi voglio ringraziare perché noi nessuno prende una lira però ecco le tute insomma non ci fanno mancare niente ecco questo per noi già è tanto per me già è tantissimo ormai sono alla fine diciamo così della mia piccola carriera però sono soddisfatto a volte magari questi gesti qua valgono più di 100 mila lire poi ognuno la pensa come vuole certo questo è lo spirito del vero calcio direttamente passiamo adesso all'alto attaccante Andrea De Simone e allora volevo ringraziare la mia società partendo da Camillo Bada dirigenti Emiliano Piccirilli il presidente del dottor Ciampa e tutti gli amici miei della squadra e anche gli amici che non giocano con me a pallone e che mi guardano al campo quando giochiamo in casa ecco e ringrazio soprattutto la società perché si sta impegnando moltissimo infatti quest'anno con le proprie forze è riuscita a darci borse nuove tute il loro impegno è veramente ragguardevole ecco bene grazie anche a De Simone chiudiamo con il direttore sportivo nonché calciatore dello Sportland Villanova Domenico Caporale io voglio ringraziare Sintetico mia moglie che mi sopporta per questo obbligo che ho voglio ringraziare tutti gli adepti della società con tutti i collaboratori l'amico Piero Cerfelli che è il più rappresentativo della società e ringrazio Telemax per averci ospitato grazie a voi e ricordiamo il prossimo appuntamento sportivo con noi di Telemax in diretta venerdì anteprima sport domenica torneremo con il gol calcio d'intorno lunedì prossimo tutte e tre le trasmissioni alle ore 21 grazie a tutti e buona serata grazie a tutti